Buongiorno a tutti, oggi presentiamo un sistema di copertura automatica per i pannelli solari, completamente motorizzato, in alluminio, stecche in alluminio con all'interno poliuretano, quindi anche a funzione isolante, adesso lo facciamo funzionare, il sistema è completamente automatizzato, in base alle temperature dell'impianto gestisce l'apertura e la copertura dei pannelli, quindi ferma la produzione dell'acqua calda. Vai Dario, fai partire! Il sistema è completamente motorizzato, si gestisce attraverso una centralina e si può anche comandare manualmente attraverso un tasto manuale che permette l'apertura o la chiusura del sistema manualmente. vengono realizzate su misura per ogni tipo di pannello, sia tubi sottovuoto che pannello piano vetrato, fino a una misura massima di due metri e mezzo per due metri e mezzo.